Oggi celebriamo i 76 anni della carta di Chivas, una carta importante perché non soltanto fa parte della natura della nostra Costituzione, della nostra storia, ma perché è nata dall'antifascismo, dalla resistenza di una forza che opprimeva i popoli. Una carta che ci permette anche di capire e dare valore a quelle che sono le differenze, quelle che sono le culture differenti e quindi tutelare anche le lingue minoritarie. Un importante passo dei 76 anni è anche legato all'entrata in Europa, il fatto di essere all'interno di una comunità europea, di promuovere l'Unione Europea come unione dei popoli. Questa è una cosa importante ed è un passo che dobbiamo fare. Un'altra politica importante è quella di sensibilizzare l'Europa su quello che sono sostanzialmente le disgrazie del nostro periodo, dove le aziende chiudono, le multinazionali spostano e delocalizzano le loro produzioni. Una politica europea anche da questo punto di vista è importante perché le nazioni non possono rimanere da sole.